Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Nogacraft Eriamo rimasti nello scorso video che avevamo appena fatto il primo disco dell'ME Abbiamo un disco ragazzi, non mi ricordo se era da 1K o da 4K, non mi ricordo Vabbè, comunque io sto continuando a spammare i processori perché voglio fare altri dischi Tanti processori, logic processor, logic processor, go go, spam, spam Eh sì ragazzi, oggi sono in vera di spam di processori No scherzo, questo episodio non lo passerei ma spammare i processori, ma lo passerei ma spammare i processori Altri processori, processori, guardate i processori, processori di più, più dischi, più spazio No comunque, cosa voglio fare adesso? Allora già ho letto qualcuno che diceva è meglio la vecchia Apple ed è quella nuova Dopo 10 punti a Grifondoro, dopo questa, Grifondoro 10 punti Cansia ha segnalato sulla lavagna E niente, sì, non c'è proprio confronto con la vecchia più figa, comunque Cosa facciamo in questo video? Andiamo a fare questo blocchetto qui che è da ste parti, non mi ricordo Si chiamava Energy Accepter, mi pare, non mi ricordo pure una roba del genere Sì sì, se lo trovo magari Sì, praticamente ragazzi, l'energia adesso non va più buttata all'interno del controller Come si faceva una volta, ricordate, buttava tutto dentro il controller Sì, mi piacerebbe Ci vuole questa cosa qui, Energy Accepter Questo Energy Accepter che si fa con il Quartz, il Glass, che io ce l'ho, ce l'ho, sì ce l'ho C'è tutto, easy peasy proprio, non ce lo posso craftare, ma lol L'Energia Accepter ragazzi, in teoria, è un blocco che accetta l'energia delle altre mod All'interno delle ME, ad esempio, gli RF, quelli che uso io qui a casa mia Io sto usando solo RF, ci avete fatto caso? Ecco, questo qui accetta gli RF dentro le ME Ora non sono sicuro funzioni, ma dovrebbe che cacchio sei? Bastardo, non ho one shotato, sta spada ragazzi, è divina Con affilatezza, 4 boy one shot ai mob Non c'ho parole E la cosa che mi manca sono i cavetti dell'enderio, questi arancioni Che posso craftare, perché ricordate, in un episodio Tanto, qualche episodio fa Una volta Madonna, se stai intasando tutto qua dentro Un qualche episodio fa Preparai per fare i cavetti, tanti cavetti, tanti cavetti E mi rimase nell'inventario Questa roba la togliamo, perché fa schifo La hopper, il ferro, il quarzo, tutto via Perfetto Oh, oggi abbiamo un po' Sto esplodendo tutto di patate, ragazzi Patate e carote ovunque Oh mio Dio Se li prendo un po' le Ecco Le ho avuto qui dentro? Come ho fatto a buttare solo le patate dentro? Che t'ha soppremuto, scusate Vabbè Comunque Adesso andiamo a craftare questi cavetti dell'enderio Anderio, 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 anderio Dove sono i conduit binder? Dove li ho messi? Nooo Sono andato dentro la cesta dell'enderio dall'altra parte Eccoli qua i bastardi Comunque vorrei far notare una cosa, ragazzi Avete notato che Sono rimasto senza cibo in entrambe le serie? Cioè Sia nella noia craft che nella tecnologia Sono senza cibo Cioè, parliamo Aspetta, qui ce l'ho il cibo, eh Io basta che Che non metti i tubi attacchi al muro Basta che vado laggiù dalle mucche E non potete neanche immaginare Aspetta, vi faccio vedere Ma guardate qua dentro che sta succedendo E' il bordello E' una mucchiata di mucche E' sesso violento fra mucche Guardate quanto carne c'è Oh mio Dio Questo ho preso Rubato Rubato Lo mettiamo a cuocere Guarda i mucchini Ciao mucchini Creperate tutti Al macello tutti quanti E comunque No, poveracci No, effettivamente andranno tutti al macello Per i dettagli Allora Ehm Mettiamo a cuocere questa carne Perché finisce male qui Ti cuoci? Ok, si sta cuocendo Perfetto Ma l'energia arriva? No, ma giusto per curiosità Ma che sta facendo sto generatore qua? Dietro sta FK Che bello I generatori FK Che bello Carbonicola Carbonicola Effettivamente potrei farlo diventare Qualcoc Vabbè, poi ci pensiamo Allora Vediamo qui Altro processore Io intanto spammo processori Raga Tranquillo proprio Adesso che abbiamo i cavetti Li andiamo ad attaccare Semplicemente ragazzi Proprio niente di più facile Basta collegarle in questo modo Ma sì Ovviamente non collegare le tubi Della tubes Perché ho capito che la tubes Attacca tutto Però questi sono tubi elettrici A te non ti interessano Fino qui Così Dovrebbe essere arrivata energia Ma come il cazzo Dovrebbe essere arrivata energia Vediamo un po' Sì Mamma mia Guarda come sbrelluccica Avete capito ragazzi Questo non è altro che un trasformatore Si può dire Comunque è il blocco È il nuovo controller Si può dire È il blocco che riceve energia ragazzi Se volete buttare energia dentro le nuove ME Dovete utilizzare questo blocco Di intermezzo Non potete buttare direttamente dentro al controller Non funziona più Quello è il nuovo controller Si può dire Cioè alla fine il controller nuovo è inutile Vabbè Dettagli Allora Adesso che abbiamo accesso all'ME Possiamo schiaffarci dentro tutto quello che vogliamo A parte tutti questi slot per i dischi Che cacchio è sta roba No questo dovrebbe essere lo slot per questi upgrade Capace di card Crafting card Fuzzi card Crafting card? Cioè io potrei mettere la crafting Come si fa? Lana più advanced card Advanced card Cacchio è sta roba Ah no aspetta Calculation processor posso farlo Si fa con il quarzo pulito Oh se è co... Vediamo un po' se si è preparato il quarzo Quei fuori Ricordate l'avevamo lasciato a cuocere Ah Vabbiamo prontissimo Però un po' ha cresciuto Vedete È aumentato un pochino di dimensioni Sta crescendo ma non cresce più Perché è finito il coal qui Oh questo è male Coal Serve un po' lì fuori Eh si Hanno smesso di crescere Vai Riparti Vediamo se si sbrilluccica Abbiamo una conferma? No ancora no Ok sbrilluccicoso Perfetto Lasciamo crescere quei cristallini Ok intanto mi faccio altri processori Che cosa ci potrei mettere dentro a queste ME? Che ci potrei mettere? Roba strana Roba ma... Di mod? Strano Non so cosa metterci No Più che altro In teoria io dovrei collegare tutte queste ceste con degli storage bus In teoria Però non è che mi convince molto la cosa Perché sapete gli storage bus e le ceste non vanno molto d'accordo E poi le ME fa fatica a organizzare le cose Dovrei usare tutti i dischi Non so La cosa migliore da fare sarebbe sostituire tutto con dei drive E spammare i dischi come un deficiente e riempire tutto di drive Anche se i drive vuole metterli sotto eh E tutte queste ceste le facciamo sparire Eh? Che ne pensate? Come la vedete la cosa? Questa cosa Io non so ancora deciso di farla Scrivetelo nei commenti Allora O faccio sparire tutte le ceste Che rimpiazzo con due access terminal E mettiamo tutto le ME E tutti i drive li metto lì sotto come volevo fare Oppure tutte queste ceste le faccio diventare o ME chest O drive E mettiamo tutti i dischi qua Però capito? Vorrei allargare questa stanza Vorrei far diventare uno stanzone grande Dove potrei mettere tutte le mie cose con comodo Qui è dove praticamente lavoro Dove ci metto tutte le crafting table Le chest I macchinari al volo Capito? Le crafting table Le rolling machine Cose rapide comunque Sarebbe la cosa migliore sinceramente Non lo so Ditemi voi Faccio sparire tutto E lascio solo due chest terminal? Oppure rimpiazzo tutto? Non lo so Sono indeciso Scrivetemelo Fatemi sapere perché sono indeciso Dipende tutto da quello che Che decidete Poi un'altra cosa interessante Un tizio mi ha scritto nei commenti Conde perché fai una domanda a fine video? Non so se lo farò qui nella Noia Craft Però nella tecnologia si Ho un'idea Poi lo vedrete nel video delle 6 ragazzi Alle 6 a fine video Farò una domanda E vedrete che domandona Domandina Domanda Domanda insomma Dai quello lì Più o meno Ok Perfetto Vedete Devo aspettare che crescono i cristalli fuori ragazzi Non posso fare altro Che bene Devo fare il calculation processor Calculation processor Vanno questi cresciuti Sono ancora lì Non finiranno mai Oh mio dio Però nel frattempo c'è Un'altra cosettina che potrei fare Che sinceramente a me serve Perché alla fine serve Che si chiama Questa qui Guardaci Culinary Il culinary generator ragazzi Che potrei anche fare questo E abnorme Che si fa con questo al centro Il cadere sai Mi fa piacere Salutamelo Che cacchio sono questi craft Ma dai Ma che cos'è questa roba Qui ci vuole un altro craft Che fa sta roba Vabbè Poi adesso mi ha contato Del culinary standard Dobbiamo fare i culinary generator ragazzi Sì Non è che dobbiamo Anzi Devo farli Sto esplodendo Sto esplodendo tutto Prima li faccio E meglio è Ma questi sono i tank wall Non mi serve i tank Ah è un blocco No tank wall Ah ferro Iron Aspetta mi serve il blocco O il ferro Ok mi servono Tanti survivalist generator Che si fanno coi pistoni Ok mi serve ancora più ferro Ho preso un po' di ferro Non mi serve ancora di più Sì intanto ho buttato La roba dell'app Qua dentro Perché non mi serve niente Ok serve tantissimo ferro Cobblestone Legno Vai prendiamo tutto Cominciamo col craftare I pistoni Milioni di pistoni Bam 57 pistoni Ok direi che bastano Ok facciamo i survivalist Ora non ho redstone Non ho mai redstone Anche per il cazzo Uno stack di redstone Basta No facciamo due stack E più prendiamo la cobblestone Cavolo l'ho lasciato qui E la facciamo ridiventare Normale cobblestone Perfetto Perfetto Perfettissimo Andato E facciamo Questi Non va Perché non va Dov'è il tuo Ah le fornace manca Il problema c'è Mancano le fornace Solo 8 Facciamo ne di più Facciamo ne 16 16 Basta Vediamo Boom 17 Ma perché questi Ah perché sono pieni di energia E questo non va Perché servono Altre fornaci Che bello Sì Ma che cos'è Uno spam Cioè ragazzi Sti generatori Sono spam di fornaci Fornaci Sopra fornaci So fornaci Con fornaci Ok Ho finito la cobblestone Che bello Che bello Cosa ho fatto Cosa ho cliccato Ah sono andato su Recipes Ok Boom 16 culinary generator Ragazzi che dovrebbero essere più che sufficienti Credo Spero Sì Dovrebbero esserlo Dovrebbero Proviamo ancora Facciamo ne altri Beh ma ancora Pure quelli carichi Ah quelli carichi non vanno Merda Le merda Facciamo così Eccolo uno Eccolo un altro E voilà 19 ne abbiamo fatti ragazzi Ok abbiamo 19 culinary generator Che ci serviranno per smaltire tutto quello spam infinito di carote e patate Che non se ne può più E in teoria A me di carote e patate non me ne frega niente Infatti adesso ce le butto tutte Adesso tolgo l'ammucchiamento che c'ho qui C'è il Come cacchio si chiama qui L'aspira carote e l'aspira patate Lo tolgo E mando tutte le carote e le patate dentro i generatori A go go proprio A bestia E metterò delle mega batterie qui Allora Prima decidiamo dove mettere i generatori A me il posto migliore mi sembrerebbe questo lato Dove stanno anche questi E aggiungiamo anche le carote e patate Sarebbe la cosa migliore in effetti Da dove arrivano Allora l'energia arriva da lì Perfetto Sì Vai Qua Uno Due Tre Quattro Cinque Spam Sei Sei bastano Questo se ne va perché adesso non mi serve una ceppa Tutti i tubi qua sopra se ne vanno Perché non mi servono doppiamente Nessuna ceppa Altra ceppa Via Pussa via Pussa via Pussa via E sposto tutti i cavetti qua sotto Voila Easy peasy Ok Tatatatatatam Che me manca Un cavetto che mi colleghi questo Mazzò Mazzò Scollegato lei è me in questo modo Ho fatto i danni Stacca questo Stacca pure questo Stacca sto cavetto Ecco qui hai trovato il cavetto Hai visto l'ho trovato alla fine Dove Cavetto Dove sei cavetto Ah eccolo Pensavo di averlo perso Il cavetto lo mettiamo Qui Aspetta però vado a risparmiare cavi così Allora aspetta non c'è più bisogno del cavetto Perché c'è un cavo che avanza Esatto Allora questi sono i nostri generatori che vanno a culo Culinary generator E mi serve da collegarli però con delle pipe Delle logistiche che stanno nella cesta La logistica stanno nella cesta logistica Logistica Allora adesso metterò tante logistiche pipe qui E tante logistiche pipe qua sopra Madonna quanto mi lagga il gioco ogni volta che piazzo una logistica Ragazzi Ah ho letto il commento di un altro Mi ha scritto ecco guarda che il mondo Ad esplode Ad esplode Non mi fare essere volgare Guarda No no A me questi commenti sinceramente piacciono Seriamente piace un commento del genere Perché è una sfida Vediamo quanto durerà questo mondo Spammerò come uno scemo Ovviamente Minecraft 1.7.10 Sapete che l'1.7.10 è buggatissima Quindi c'è essere arrivata a questo punto È una grande cosa Parliamone Questo è un grande pack ragazzi Veramente sono molto soddisfatto da questo mod pack che ho creato È veramente wow Wow Sì a me servono carote e patate ad esempio però da mandare là dentro Se no ho un esemplare di carote e di patata non posso fare nulla Ok Allora tutti i generatori sopra prendono le patate Tutti i generatori sotto prendono le carote Eh sì eh c'è chi Chi panza culo culo panza E ok carote qui Patate qui patate 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 Ovviamente produrrò molte meno Ma se le cuocio prima Ok vediamo Patata produce 2164 RF Patata 17.000 la carota Ok Ti serve una patata cotta? Devo cuocere una patata? Ferma tutto Spegni stacca spegni Vediamo un po' quanto dà una patata cotta Cotta Cuociti Cuociti cotta Cotta mia Ok andiamo subito sotto Allora di base dava 2000 Quant'era 2000 e qualcosa Vediamo da cotta Allora carota da 17.000 Patata cotta da 25.000 Ma tu stai fuori Ok ragazzi Mettiamo le patate cotte come filtro Ormai tutti andremo avanti a patate cotte e carote A posto E io per questo video vi saluto È tutto Ci vediamo nel prossimo video dove avremo i cristalli sopra cresciuti E farò un bel impianto di cottura patate e scottura Cottura e spappolamento patate Cioè spappolamento nel culinari Nel culinari Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Bella se beccano Oh 25.000 Non è possibile What the fuck I do Non è possibile Perché qui se non mi piace sta cosa che si collega qui Questo tipo di stacchi Facciamo così E qui il tubo È inguardabile però almeno È più guardabile del tubo che si aspira Dove è andato quel pezzo di tubo E qui la lava che si fa i gireti Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti